Prima che inizi il video iscriviti e attiva le notifiche su tutte se vuoi restare aggiornato all'uscita dei prossimi video Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su GTA Online e ieri è uscito il nuovo aggiornamento di Criminal Enterprise Chiaramente ho acquistato tutti i nuovi contenuti in live su Youtube Ringrazio tutti quelli che ieri c'erano E oggi vi farò vedere principalmente cosa hanno aggiunto Insomma tutto quello che ho comprato in poche parole Su Legendary Motorsport oltre ad aver cambiato qua il menu dei vari siti insomma Hanno aggiunto la Obey Omnis EGT La Benefactor LM87 La Lampadati Corsita o Corsica per gli amici E la Pegassi Dorero XO Quindi non male come auto Ora vi faccio vedere cosa hanno aggiunto su Soudra San Andreas Ovvero la Bravado Greenwood Che quest'auto si può modificare anche all'agenzia insomma Per finire qua su Elitas Travel hanno messo questo nuovo elicottero Ovvero il Conada Guardate un po' Con un'estetica nuova abbastanza bella a mio parere E quindi siamo qui nella mia villa che ho acquistato ieri Dato che hanno aggiunto due nuove posizioni per poter mettere le proprietà Con un totale di 10 se non sbaglio Quindi entriamo pure nel garage dove ho messo la maggior parte dei veicoli Allora qua come vedete ho messo qua la nuova Lamborghini Ovvero la Pegassi Torino Torero scusate Poi qua c'è la Corsica La Benefactor LM87 E qui c'è l'Audi Allora direi che nel frattempo per uscire possiamo prendere l'Audi Intanto raga se volete supportare il canale E al contempo ottenere vantaggi esclusivi Potete abbonarvi Trovate il link in descrizione E se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis sul canale Twitch Comunque Allora andiamo subito All'agenzia che vi faccio vedere L'ultimo veicolo Quest'auto È buona perché Ha una buona accelerazione Quella velocità massima Non è tantissima da quel che ho visto però Non è neanche male come Audi Insomma Ora vi faccio vedere Poi altre Novità Chiaramente Tanto siamo qui Quasi arrivati All'agenzia Come vedete gli interni La cosa positiva è che Per queste nuove auto hanno messo interni Sempre abbastanza Moderni Insomma Il che Non è male Ora Entriamo pure nell'agenzia E ci vediamo Nel garage Eccoci qua nell'agenzia Allora vediamo se Riesco a trovare L'auto nuova Dovrebbe essere Qua sotto Eccola qua infatti Quest'auto qui Che È quella di Sauder San Andreas Può essere modificata qui E come vedete Potete mettergli La blindatura E io ci ho messo I disturbatori di frequenza In alternativa Si potevano mettere anche La guida Diciamo RC Però In tempo limitato Beh poi ci sono tutti I bonus Che ci sono in questo momento Mamma mia Come mi ha malisciato Quell'auto Tanto con questa bellissima auto Possiamo andare All'angaro Può sganciare anche Mine di quelle proprio inutili Mine di prossimità Che però mi sa che ti fanno solo scivolare Se mi ricordo bene Proviamo Allora andiamo pure all'angara Intanto vi dico altre novità Oltre a questi Veicoli qua Che sto utilizzando Che ho comprato Hanno aggiunto Delle nuove missioni Che ieri ho un po' Cominciato a fare in live E non sono male Insomma qualcosa Di nuovo Abbastanza comunque Classiche Come missioni nulla Di sorprendenti Insomma E hanno modificato Tutti I vari business Tipo Il bunker Il CEO L'MC Insomma Tutte queste cose Che non ho ancora provato Ma che Poi proverò successivamente Non so se In live su Twitch Comunque vi porterò dei video qua Vedrò un po' Come fare Intanto Quest'auto qui Non è male Insomma Tutto sommato Non so quanti Razzi resista Cosa che mi è comparso lì Non lo so Nanch'io Andiamo subito a vedere Ah Sarà un veicolo Di quelli da consegnare Vabbè Detto sinceramente Ora Non ne ho Voglia Io Quando devo Prendere una rampa Prendo sempre Il board Tuttavolta Ce la farò Appunto Vi faccio vedere Anche il nuovo elicottero Il Elicottero Il nuovo elicottero Allora Eccolo qua L'ho messo Subito qui All'entrata Io l'ho fatto Di questo colore qua Che non mi dispiaceva Però vi faccio vedere Comunque Un attimo Alcune Modifiche Tra virgolette Interessanti Alla fine Non potete modificare molto Però potete mettere Come tipo Librea Vi faccio vedere Quella Delle Del notiziario Insomma Vabbè Nulla di che Però Vabbè È comunque Una Librea Diciamo diversa Dal solito Come manovrabilità Non è male Solo che Chiaramente Non è le armi In questo Veicolo qua Ora vi faccio vedere Anche Dove si trovano Le missioni Nuove Sono qui Praticamente L'IA O l'IA Insomma Quel che è Hanno anche Messo varie modifiche Per Depotenziare L'oppressor Robbe varie Che si può correre All'interno del casino Eccetera E quindi Insomma Devo dire Tutto sommato Non sicuramente Il DLC Migliore Fino ad adesso Però devo ancora Vedere Molte cose Essendo comunque Basto Per quanto riguarda Il business I business Nuovi Eccetera Quindi tutte le novità Le devo ancora vedere Detto ciò Raga Ditemi Cosa ne pensate Di questo aggiornamento Lasciate like Se il video Vi è piaciuto E ringrazio gli abbonati Del mese Ovvero GritterCGB Se volete Abbonatevi anche voi E detto ciò Iscrivetevi E attivate le notifiche Per Restare aggiornati Su altri contenuti E ci vediamo Al prossimo video